D'altronde dopo la caduta iniziale... No, chiaro, poi sai già che ormai la gara è compromessa. Kubo impegnato al suolo. Doppio avanti con mezzo giro di avvitamento, elemento difficilissimo questo. E poi anche lui un doppio Zuccar, atterraggio piuttosto deficitario in questo caso. Questo invece è molto bello, sempre salti avanti, sempre abitamenti, ottima la compostezza. Ora mulinelli. Parti coreografiche pur di discreto valore servono per tirare un po' il fiato ma allo stesso tempo da non considerare come cose facilissime da eseguire. E anche per lui il triplo avvitamento dal salto teso indietro a concludere. Elemento che ha gestito meglio rispetto a Dragulescu. Midesima parte finale, migliore quella proposta del francese. Su Yen Gogu che faceva parte della squadra transalpina che ha partecipato ai mondiali di Toa con la quale ha chiuso in dodicesimo posizione. Dunque non ha centrato la finale. Dodicesimo posto.